Il credito valtellinese volta pagina, l'istituto bancario di Piazza Quadrivio apre da oggi un nuovo capitolo importante della sua storia, lunga 110 anni, con l'uscita di scena del consiglio d'amministrazione presieduto da Miro Fiordi, dimissionario insieme a tutti gli altri 14 componenti del board. Una decisione presa con l'intento di evitare spaccature e tensioni nel corpo sociale lesive del processo di rilancio della banca e favorire il passaggio di consegne al nuovo CDA. L'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi a Milano oggi ha così plasticamente sancito gli effetti della recente trasformazione della banca da società cooperativa a società per azioni e dell'ultimo aumento di capitale, con l'ingresso nella governance di Creval di figure che rappresentano il nuovo assetto della compagine sociale, riconducibile in buona parte a fondi internazionali. L'assemblea odierna preso atto della cessazione dalla carica dei precedenti amministratori, la scadenza naturale del mandato era il 2019, ha così nominato il nuovo consiglio d'amministrazione della banca, come richiesto nell'ordine del giorno, dall'azionista Dumont, detentore attraverso la holding di GFD del 5,12% del capitale sociale. La sua lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti pari al 69,9% delle azioni rappresentate e ammesse al voto e al 45,6% del capitale sociale complessivo, porta in consiglio il capolista Luigi Lovaglio, indicato come presidente, Alessandro Trotter, Stefano Caselli, Mauro Selvetti, fino ad oggi amministratore delegato, Fausto Galmarini, Elena Beccalli, unico consigliere uscente rieletto, Massimo Massimilla, Livi Alberti Amidani, Massimiliano Scrocchi, Teresa Naddeo, Paola Bruno e Carlo Crosara. Della lista di minoranza, presentata congiuntamente da vari azionisti operanti nel settore del risparmio gestito, che ha ottenuto voti pari al 29,7% delle azioni rappresentate a ammesse al voto e al 19,3% del capitale sociale complessivo, sono risultati eletti Anna Doro, Serena Gatteschi e Stefano Gatti. Il nuovo consiglio d'amministrazione resterà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. L'Assemblea ha inoltre deliberato oggi di fissare in 45.000 euro il compenso annuo per ciascun componente del Consiglio e in 750 euro il gettone di presenza per ogni riunione del Consiglio e dei suoi comitati.